il piacere di leggere per me rappresenta la possibilità di vivere su più livelli di vivere più vite e di conoscere più esperienze i tre libri da leggere sarebbero molto più di tre ma i tre assolutamente indispensabili che suggerirei al lettore del 2017 sono tre romanzi il primo è Madame Bovary il romanzo di Gustave Robert perché inaugura il mondo in cui noi viviamo il mondo del desiderio irraggiungibile della frustrazione che porta alla disperazione il secondo è un romanzo italiano Il gatto parto di Giuseppe Tommasi di Ampedusa pubblicato nel 1957 esattamente un secolo dopo perché racconta l'identità italiana meglio di qualsiasi altro libro di storia e il terzo è un romanzo del 1972 che ho riscoperto di recente scritto da Carlo Fruttero e Franco Lucentini la donna della Domenica è un grande affresco dei tic e delle debolezze del mondo contemporaneo ed è una lettura impagabile